Gentili telespettatori, buona giornata. Schlein ha torto in cosa ci sta trasformando? Una sorta di rivolta all'interno del partito che si definisce democratico. E' l'Schlein che difende l'ufficio, come se fosse per forza, chi ha contestato? La ministra Eugenia Roccelli. Roccella impedendole di intervenire al Salone del Libro di Torino. Ha creato parecchi malumori all'interno del PD, perché ovviamente la parte intelligente del partito, quelli di un certo spessore, dicono ma come? Cioè impediscono a una persona di parlare? Noi andiamo a difendere chi impedisce di parlare alle persone. Ma cosa siamo diventati? Ma cos'è il partito diventato al posto che il PD, il PNF, partito nazionale? Ecco, così parecchi malumori all'interno del partito democratico. Molti esponenti dem che al congresso hanno sostenuto Stefano Bonaccini non hanno perso occasione per criticare la segretaria col fazzoletto rosso. Dicono così, è così facile, ha ragione il russo e ha torto la Schlein. Nei gruppi parlamentari la pensiamo tutti esattamente allo stesso modo. è lo sfogo di un deputato del partito che si definisce democratico all'attestata giornalistica il giornale. L'unico che per ora ha messo la faccia contro la segretaria da centro sociale è Stefano Lorusso. Perché l'atteggiamento di un capo del PD che dà ragione a chi impedisce agli altri di parlare è un atteggiamento da ragazzina da centro sociale, da ragazzina ventenne da centro sociale non da persona adulta del secondo partito italiano che si freggia del nome democratico e sosteniamo chi impedisce di parlare? Partito potrebbe chiamarsi sempre PD, partito dittatoriale più che partito democratico. E così l'unico che parla, tutti gli altri muti per opportunità di carriera ovviamente. L'unico che parla è Stefano Lorusso, sindaco di Torino, che ha condannato l'episodio increscioso che ha impedito alla ministra di esprimersi. Dice così, sono convinto che la libertà di parola sia un valore fondativo della sinistra e sono dispiaciuto che la ministra non sia riuscita a presentare il libro. Ovviamente i consiglieri vicini alla Schlein non hanno accolto bene la presa di posizione di Lorusso perché sono i classici, come si dice, quelli che adulano il capo per evidenti motivi di opportunismo, no? Come si chiamano quelli che adulano gli altri, no? Quelli che ti girano intorno slap, slap, slap. Come si chiamano quelli che fanno slap, slap, slap? Proprio quelli lì, no? Ovviamente ci sono intorno, qualcuno li chiamava una volta i lacche, no? I lacche, gli yes men, quelli che dicono sei un grande, sei il migliore. Magari se vinci fammi ministro ma sei un grande, sei il migliore, se vinci fammi sottosegretario sei un grande. Ecco, quelli lì che stanno intorno alla Schlein non hanno accolto bene l'onestà intellettuale del sindaco di Torino che ha detto una cosa normalissima, non si può stare dalla parte di chi impedisce la parola e le opinioni. E così tutti gli amichetti intorno alla ragazzina del centro sociale non hanno accolto bene la presa di posizione di Lorusso che invece ha incontrato il favore di molti esponenti importanti del PD nazionale, cioè la Schlein viene isolata, lei e gli amichetti, i ragazzini, però quelli adulti, quelli che hanno un certo spessore politico, culturale, morale, un certo background, un certo curriculum, dicono eh no, 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 cioè il centro sociale fattelo tu, noi siamo dei politici di un altro calibro. Ecco, infatti guardate, io ho sempre parlato di centri sociali, ma l'ho sempre detto io. Un parlamentare riferisce, anonimo, riferisce a il giornale, siamo diventati come i centri sociali. fantastico. Io l'ho sempre detto come mia opinione, ma se lo dice un parlamentare del PD a il giornale, siamo diventati come i centri sociali. Nel partito, dice, è convinzione diffusa che non bisogna impedire a nessuno di parlare. La segretaria avrebbe dovuto mostrare più equilibrio. Insomma, dice la fonte più equilibrio, ma le parole sarebbero state decisamente altre, però è stato elegante, rispettoso, avrebbe dovuto mostrare più equilibrio. Io avrei detto altre parole, altro che più equilibrio, più intelligenza. Avrebbe dovuto mostrarsi più adulta, ma non solo politicamente, ma come persona, perché l'estremismo te lo aspetti dai ragazzini. I ragazzini sono estremisti di destra e estremisti di sinistra. Quando si è giovani si tende all'estremismo, io ho ragione, tu stai zitto. I ragazzini fanno così. Probabilmente il livello della segretaria del PD è rimasto quello, ma ci sono tante persone che si fermano a una certa età. Quindi non è che più cresci automaticamente diventi... no. Tu puoi crescere anagraficamente, ma la tua età, non solo biologica, ma la tua età intellettuale può essersi fermata prima. Ma questa è la vita, nel senso che esseri umani sono differenti, ci sono gli Einstein, ci sono quelli che non sono degli Einstein. Quindi nel PD dicono ma cosa siamo diventati? Avrebbe dovuto mostrare più equilibrio. E dice questa fonte, la pensiamo in tanti così, solo che sono tutti zitti per motivi, per non perdere il posto di lavoro, perché se vai contro la capa da centro sociale, quella ti segna sull'agendina, fra quattro anni quando ci sono le lezioni, arrivedorci, arrivedorci, e non ti candida più. Eh sì, eh sì, eh sì. Pertanto avete voluto la Schlein, non avete voluto Bonaccini che perlomeno era di un altro livello, ma di un altro livello. Non avete voluto Bonaccini? Avete voluto la Schlein tipo centro sociale, zainetto e treno? E adesso ci divertiamo. Lasciatemi divertire. Arrivederci a tutti e grazie.